Ci sono due modi per Brembo di pensare al nuovo mondo della mobilità, in termini soprattutto di elettrificazione. Il primo è quello di elettrificare i propri componenti, quindi i nostri impianti frenanti. Già lo stiamo facendo attraverso il break by wire, una tecnologia innovativa che certamente aumenta la sicurezza dei veicoli di qualunque tipo, qualunque cilindrata, qualunque dimensione sulle nostre strade future. Un'applicazione di serie si potrà vedere già nei prossimi due anni. L'altro modo invece di pensare dal nostro punto di vista alla mobilità del futuro è al grande scenario della mobilità elettrica condivisa, autonoma e in questo caso ovviamente gli impianti frenanti quando non ci sarà un driver che ha il controllo della situazione diventano ancora più importanti. E noi stiamo collaborando attivamente mettendo tutta la nostra intelligenza di 120 softwareisti che abbiamo assunto negli ultimi anni a disposizione dei nostri clienti, grandi e piccoli, per coordinare insieme il tema della sicurezza. Abbiamo firmato a Bruxelles un impegno molto importante che per il 2050 prevede zero fatalities, zero morti sulle strade europee. Ricordiamo che oggi ce ne sono ancora 27.000.